Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperature gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera e sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Il stadio di Bregão sorge a Oporto, una città di mare. Non è quindi una sorpresa che il blu sia il colore dominante. Due club di prestigio uno di fronte all'altro, quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi modi. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi a corsi allo stadio. Eccoci, si comincia. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica, ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan, come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Non posso che essere d'accordo con quello. Kimi cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Può cercare il taglio in mezzo. Kimi, pallone lungo, in verticale. Müller non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Maricic cerca di servire il compagno in avanti. La Lazio ha un'impostazione di gioco ben precisa, che cerca di sfruttare al massimo le fasce laterali. E sì, in effetti tentano spesso di sfondare sugli esterni. Esatto, hai ragione, e cercano di sfruttare tutta l'ampiezza del campo per disunire la difesa avversaria e per creare pericoli partendo dalle fasce con i cross. C'è la palla lunga, in avanti. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Guendouzi Maricic Le due squadre si temono, Fabio. Si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Luis Alberto Guendouzi Di forza Ha portato scolpiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzare. Ha la possibilità di proventino. La palla va sul palo. Lungo pallone in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Felipe Anderson Ballone promettente. Il difensore può spingersi in avanti. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Ballone in avanti. Scodella in avanti Goretzka Müller Passaggio filtrato per Müller E' libero di creare pericolo Solta e colpisce di testa Tutto bello ma la conclusione non va assieme Probabilmente l'impatto con la palla Non è stato dei più puliti Ha cercato di colpire con troppa forza Secondo me Decide di allargare il gioco Provano a ripartire da dietro E arriva il fischio finale Di questa prima frazione di gioco In trombe le formazioni a riposo Dopo 45 minuti In cui gli attacchi Hanno sparato a salve Non una brutta partita in ogni caso Si parte per la seconda frazione di gioco Beh Fabio Nel secondo tempo le cose possono cambiare Speriamo che la gara si accenda Sani Lureska Kane Ecco Immobile Ottimo il fraseggio Prova ad andare via con eleganza Vediamo se può capitalizzare Occasione da rete Palla molto angolata Ma il portiere c'è L'arbitro dice di aspettare Prima di riprendere gioco Il mister vuole cambiare qualcosa Proveranno a sfruttare la velocità Del nuovo entrato Per mettere in apprezzione Gli avversari Lungo passaggio in avanti L'avversario ha avuto la meglio Miller Riceve in ottima posizione Ottimo intervento Ha visto il pericolo Ed è riuscito ad anticipare l'avversario Il portiere la spedisce su Immobile Non riesce a servire il compagno La giocata troppo corta Il suo sguardo di scusa al compagno Dice veramente tutto Sani Bedro Opportunità di ripartire Gioca una palla lunga E' buona Si gioca La palla verrà rimessa in gioco con le mani L'arbitro indica chiaramente la rimassa Ancora 0-0 potrebbe succedere di tutto Cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante Kane Bel gesto tecnico Può tentare la conclusione E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio Un errore che a questi livelli di solito non si fa Era lì A due passi dal bersaglio Buon giù Buon giù Buon giù Buon giù Miller E' l'autore del fallo Filippo Anderson Immobile Si fa trovare pronto Allontano con lui La cross è in mezzo Fallonetto Nessuna esitazione da parte del direttore di gara Il portiere da calcio è lontano Ottima pressione la sua Palla recuperata L'appoggio sulla fascia Bedro Maruzic Raccoglie un passaggio dalle retrovie Può crossare in aria Stanno facendo di tutto per vincerla Secondo me attaccheranno fino allo scadere Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione Ora mi chiedo se finirà così O se qualcuno avrà ancora energie Per provare a segnare un estremis Grande movimento nello spazio Intervento rischioso La Lazio a calcio di punizione Finisce solo l'effetto dell'arbitro Con una munizione Evidentemente non trova giusto il cartellino Ma dovrà controllare la sua reazione E misurare anche le parole In questi casi è facile lasciarsi trasportare Ci mette una pezza La Lazio cerca di... Qui cerca... Splendida l'azione del portiere Chimmi L'Urezca A po' Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro Nessun vincitore, nessun gol soprattutto Un po' deludente questa partita devo dire Una gara molto tattica Piuttosto bloccata Anche un po' noiosa Eccoci qua... Piuttosto bloccata Chimmi